Homer, eccoti un assegno di 2000 dollari. Ma voglio regalare una cosina a ciascuno di voi per aver creduto in me. Lisa, questo è il primo volume dei grandi libri della civiltà occidentale. Ne riceverai uno ogni mese, dall'Odissea a Uccelli di Ruvo. Finalmente una copia di Ethan Fromm tutta mia! Ora, Bart, tu sei troppo giovane per quella mitragliatrice che volevi, ma ti darò qualcosa che ti permetterà, quando avrai l'età, di comprarne una. Una tessera di iscrizione all'Associazione Nazionale Army. Wow, che granficata! Posso avere anche dei proiettili dum-dum ripieni al cianuro? È nella Costituzione, figliolo. Maggie, tu che hai procurato la mia fortuna, ti regalerò qualunque cosa il tuo cuore desideri. Voglio quello che sta mangiando il cane. No! Ti comprerò qualcosa di carino. Ora, Marge... Oh no, apprezzo molto, ma non ho bisogno di nessun regalo da te. Troppo tardi, Marge. Ti ho comprato una nuova coppia di lava e asciuga, e ho venduto quella vecchia per 50 dollari. Oh, stupidissima asciugatrice. Ah, non credo che ci sia una vibropoltrona per me in quella borsa. Homer, accompagnami alla macchina. Che mi dai, che mi dai? Non un altro pugno in faccia, spero, perché se è così non lo voglio. Ecco cosa ti do, Homer. Ti perdono. Puoi chiamarmi fratello e io posso fare la stessa cosa. Tutto qui? Tutto qui. Capisco cosa vuoi dire, fratello. Abbracciami, fratello. D'accordo, però non ho mai abbracciato un uomo prima d'ora. Caro, 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 fratello. Homer, ti ho comprato quella maledetta poltrona. Sì, però adesso basta, basta. Homer, smettila, basta. Homer, piantala, su. Sì, però adesso basta, basta, Homer, piantala, su.